Benvenuti ragazzi alla quarta parte del let's play di Crash Bandicoot Allora, continuiamo Una buona notizia ragazzi, ho comprato il controller Sarebbe il joystick per giocare meglio al computer Così è quasi uguale a quello della play Così a me non gioco meglio e faccio il let's play meglio anche Cioè è molto meglio, guarda come mi giro così Di già di tutti i tasti Adesso mi è anche venuta più voglia di penare tutte le mele Che bello giocare a Crash di nuovo con il controller Mi fa venire in mente i vecchi tempi Ah comunque i livelli questi qua egiziani sono bellissimi Sono anche alcuni, sono quelli più tosti mi sembra anche Cioè boh credo, non mi ricordo Allora, ok siamo arrivati qua Ecco, nelle mattonelle verdi Praticamente non cadi Quelle in quelle rosse poi invece cadono pian piano Ah ma ci sono le scimmie bellissime che ti lanciano i sassi Ne rimane sempre una così Quindi intanto ci lancia dei massi sto qua Ok, eliminato O buburrap Spendiamo queste, ok Ok, attenzione a non passare lingue così da luci Sennò si attivano delle trappole che ti lanciano delle frecce E boh e ti colpiscono Sono queste porte Ok Ora come ora non possiamo andare qua Prendere la gemma perché ci serve il doppio salto Che è un nuovo potere che noi non abbiamo ancora Quindi boh Né in questo let's play non ci tornerò perché boh In questo let's play semplicemente è per farvi vedere tutti i livelli E basta Mi stava per chiudere, mi dicega Ok Ora aspettiamo che ritorna Ok, preso la vita Perfetto Sta andando tutto liscio adesso A quanto pare Aspettiamo un attimo qua Ok Ah, ma c'è l'egiziano con lanciafiamme Cioè non ha senso Oh Come ha fatto Boh, strano Oh, cristallo Aspettiamo No, giocare col joystick è tutta un'altra storia comunque Veramente Si gioca benissimo Ok, abbiamo finito il livello Ora tornando alla base e consegnando il cristallo Facciamo l'ultimo livello della seconda zona La zona araba, quella che dico, come la chiamo io, su Ah, benissimo Midnighter, stavolta c'è la corsa, quella con Coco Midnighter e mezzanotte Ok Ok E poi Iniziamo Saltiamo sopra Come vedete Diciamo che è quasi Poco più difficile Rispetto all'altra volta Cioè rispetto all'altro livello Che era di giorno Ma Quasi niente Cioè difficoltà Niente Genesis Quasi niente, sì Ok Vediamo la vita Sì, presa Ok Saltiamo sopra, che mi piace saltare sopra Vita, 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 vita E me ne da sempre una, l'altra non so come prenderla proprio Forse devo prendere la rincorsa bene così Prendere la supervelocità e fare il salto, però vabbè Va bene così Tanto questo, come vi ho detto, non è un let's play completo Avete visto come fanno i draghi adesso pure Non vanno più sopra sotto, ma fanno anche quella specie di giro a metà così Sopra Ma c'erano solo mele Oh, attenzione, mi ha colpito, meno male che avevo Uka Uka Che mi aiutava Ok Cristallo Nessun fail Si, mo la carezza pura Per fear to come back home Torniamo alla base Ed ecco che mi ha sbloccato il livello boss Secondo boss Dingo Dile Ecco, Dingo Dile E' il mio secondo nemico preferito Il primo E' Netropi, quello del tempo Come lo dobbiamo battere E' bellissimo Guardate bene adesso il video che c'è C'è questo pinguino qua Che vive qua nell'Antartide C'è lui con la mila con arancia fiamme E arrivo io e poi Oh, tocca a te adesso Adesso lui si farà una specie di barriera di cristalli, così diamanti, cosa sono E lui all'inizio ci sparerà, vedi le pale Papam, 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 papam Ok Adesso ci mira piano piano, guardate, fa Boom, e spara, così si spacca la sua barriera E noi possiamo entrare, così, aspettiamo che la spacca ancora Spacchiamo ancora questa E lo colpiamo Così si attiva la sua, diciamo, bomba che c'ha sulla schiena Ed esplode e perde vita E boh, e dobbiamo rifare così tutte le volte Attenzione Ok Ah, già è più lunga la gittata adesso Ok Ora rifacciamoci sparare Tanto non ci becca Dai, spaccati la barriera, bello Ancora una Ok, colpito Scappiamo che se no ci esplode la bomba Esplodiamo insieme a lui Ok, ora spero di non essere beccato Perché adesso spara due colpi alla volta E sono velocissimi pure Eh, vedi No, ecco, mi ha beccato Sapevo No, ma da capo devo rifarlo No, scusate Pam, 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 pam Colpito Ah, il fail del gioco Adesso che si mette a fare Questo rumore Mamma mia Ok Adesso non dovrebbe più beccarci Ah, così vado veloce però Non lo sapevo Ok, si spacca piano piano la barriera Ok Mi stava colpendo Colpito Fri, 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 fri Adesso l'ultima vita Cerchiamo di non farci colpire Cercherò di non farmi colpire adesso Ok Ok, ok, ce l'abbiamo fatta Adesso si gira Fa Boom Adesso è un po' più veloce di prima Avete visto? Fa sparare Perché è più incavolato Colpito Esplode Adesso dice Oh, hai vinto Abbiamo ottenuto un altro potere Il doppio salto Simo Crash fa il suo balletto Aspettiamo Ok Siamo tornati da base E ora ragazzi Guardate la terza zona sbloccata Eccola qui La zona quella del Giappone La chiamo io E ci vediamo con la prossima puntata Ciao ciao Ciao